Villa San Giuseppe. A pochi passi da Villa Igea, in un contesto accogliente, sorge Villa San Giuseppe, realizzata appositamente per gli anziani. Disbrigo, pratiche, servizio farmacia, camere climatizzate e tv, assistenza infermieristica. La nostra forza è la competenza. Residence Villa San Giuseppe, a Palermo in via Papa Pio XII, numero 23. Sono nato in Inghilterra a Manchester. Il mio papà è libico, la mia mamma è inglese, però mi sento più libico perché sono così. Sono orgoglioso di essere libico, anche inglese. Sono cresciuto a Manchester, ho fatto tutto il giovanile lì a Manchester City fino a 20 anni. e poi tre anni fa sono venuto qua in Italia e qui mi sto trovando benissimo per quello che l'ho fermato qua in Serie A. Penso che il mio ruolo è la mezzala, però sono a mezzala che ho segnato tanti gol. Quindi in miss per gli ultimi 4-5 partiti mi ha messo come trequartista. L'ho segnato anche lì che lì mi trovo bene, sono più vicino alla porta, quindi è più facile fare il gol. Però sono centrocampista che a me piace fare tutti e due, fase offensiva, fase difensiva. E poi l'ho fatto anche davanti alla difesa, far giocare gli altri e far giocare la mia squadra. Però il mio ruolo è la mezzala. Mi stanno aiutando tutti e qui veramente quando sono venuto qua l'ho sentito che questo è un bel gruppo. Però con il mio occhio l'ho visto che dagli giocatori più vecchi, come Enzo Maresca, mi aiuta sempre. Anche i giocatori giovani sono bravi, quindi mi aiutano tutti. Sono sicuro che sono pronto per il salto in qualità perché penso che ho fatto più di 80 presenze in Serie B. L'ho fatto tipo 15-16 gol, non so, ma sento che l'anno scorso l'ho fatto benissimo. L'anno prima l'ho fatto bene pure, quindi mi sento pronto per questo salto in qualità. Ho parlato con Andrea Caraccelo che l'ho chiesto a lui cosa dici, perché lui è vecchio, l'ho fatto tanti anni in Serie A. Quindi l'ho detto cosa dici di questa squadra, di questa squadra, di questa squadra. Mi ha detto che ascoltami se fosse adesso io andrei a Palermo perché lo progetto giusto. Passa a Team, ricevi un omaggio direttamente presso i nostri punti vendita. Negozi Team Spicuzza ti aspettano a Palermo nei punti vendita di Via Orsa Minore 123 e Via Notar Bartolo 3 Barra G.